Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15 dove si segnalano due chilometri di coda tra Ulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. In A12 code per il traffico intenso alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. Sulla direttissima della 1 in direzione Roma rallentamenti per il traffico intenso tra il bivio con la variante di Vali con la Quercia e Firenzuola. Spostandoci sulla FIPILI in direzione Firenze rallentamenti per lavori tra Empoli ed Empoli Est. Sulla statale 223 di Paganico code per un incidente tra Casaldipari e Civitella Marittima in direzione Grosseto. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!